musica dunque dovevamo buttarci cos'è un pozzo questo si eh beh eh ma mi farò male se se cado ah no c'è l'acqua hm qua eh sangue altro sangue ancora mi ha lasciato una bella scia questo eh eccolo infatti allora prego ammiri pure e abbiamo una bella forza però eh portarlo su direi che non parlerà eh eh ah beh in quel caso però non è un gioco la magia ne ha decisamente è no joke casting those spells never ends well never I don't like it any more than you do believe me but the thought that Siri is in danger I like that even less I understand still doesn't give us the right to Geralt please this is not the time to debate ethics hmm need any ingredients for the spell hmm the blood of a newborn a virgin's tongue and the eye of a newt see me trying again without the sarcasm I don't need a thing I'm a sorceress not a village herbalist all I need is energy a great deal of energy we're very lucky this place is saturated with magic it's also considered sacred priestesses will be furious if you use the garden's power to revive a corpse gerald you're getting on my nerves I offer you solutions you try to poke holes in them si ma magari eh c'è ci abbia sono delle conseguenze un po non gradite c'è questo un luogo sacro bisogna avere rispetto anche delle credenze altrui ma ma so che mi mi fa che non ammazza eh si vede eh Geralt I'll say it again we're short on time Siri is short on time fine you busy yourself pouting I'll handle the rest selene selene defrayne selene selene davidah hmm non vedo nulla di buono eh yeah are you craven o all hunting no I have I am... I am... I am... I am... You died in battle. You've recovered. Geralt, this is not the time to cheer up a corpse. A young woman, ashen hair, green eyes. What happened to her? She's wise! They cursed me! I don't care about that. What happened to her? What was she doing here? Speak! No! Speak! Speak! She fell... Almost... ... ... ... Ah, adesso ce la racconta. Proprio come... ...le altre volte. Cioè, dobbiamo viverla in prima persona. Ah, no. Ma va, come era ancora vivo. Aveva decisamente una c'era migliore. ... 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 Don't stare. Help me. Help us both. Ziri. Zirel. Can you hear me? I can. I must leave you now. We will meet beneath Drowned Dead Rock. Can you remember? Repeat it. Drowned... dead rock. You're awake. And I thought you'd... Where... where am I? And who are you? It's alright. You're on Hindersfjall. Village of Lofoten. They call me Skjall. But... what I... what? We fished you out of the sea. Me and that friend of yours. Dov'è? Chiunque gli sia. And where is he? My... friend. He stepped out a while ago. He said he needed to find a boat. Why does he wear that mask? Something not right with his mug? No. He simply doesn't like others to see it. How long did I lie there? All day near abouts. It was morning when we brought you in. Night's near come now. Damn. Too long. You needed the rest. Desperately. Been through a lot, eh? Got some nasty, fresh-looking scars. Yes. I've been through a lot. I never thought women on the continent had any fighting. Sometimes they have no choice. Siamo diversi, decisamente, noi. I don't think you should... Less talk, more giving me a hand. Ah, that's me brother for you. Out of sight for a second, and he's already put his paws on a girl. Astrid, you're as dim as dishwater. You know perfectly well I'm helping her up. It's a shame, I know, but I've got to interrupt your courtship. Come, we're off to the sauna. What? Why is your mouth agape, like you're noodling for an eel? The sauna! Mm? Mm? Girl, you was blue as a whale when we brought you in here. Your blood needs thawing. Ma sto bene, sì. No, sembra di no. Fine, you can't stand on your own two feet. And it's no surprise with your muscles frozen stiff. But don't you worry. Mom and I will take care of you. I'm sorry, but I must get to drown Deadrock as fast as possible. I shan't force you to stay. But the rock's a ways off and you can barely walk. You best take a horse. True. Skial can prepare a horse for you. You'll have to wait a spell, but even so, you'll get there faster than on foot. Fine, that'll do. Thank you both very much. Pish posh, there's no need. Now come, we gotta sweat the sick out of you. Where are my clothes? I've taken them already. Come on. Direi che dobbiamo andare a fare una bella sauna, comunque. Beh, sì, dai, mi ci vuole, mi ci vuole. Ha a che fare con un bel po' di mostri. Eh, e umani violenti. Quindi no, credo che non gli piacerebbe a questa Astrid. Va bene, ma io ci sto seguendo, anche se so dove andare. Ehm, qua, sì. Ehm, in una sauna come vuoi entrare? Cioè, non so se c'era l'asciugamano, allora, eh. Però, ah, di qua? Ok. Cioè, probabilmente sì, anzi, sicuramente sì. Però le saune erano un po' diverse, mi sa. Allora, devo andare qua? No. Ah, qua. Spogliamoci se dobbiamo andare in una sauna. Ehm, direi che ci copiamo con l'asciugamano, dai. Eh. Entra nella sauna. Eh. Ah, proprio così? Ah. Ah, mamma, tu sempre ti preoccupi. Tutto è bene, non è? Mmh. Sì, è bene. Buono. E' bene. Ma perché hai la tua tua, child? Sì, sarà solo freddo. Vabbè, ehm. Mamma, è da un contino? È sceglie. Ehm, no. Cura freddo diede di no, visto che siamo in una sauna, quindi, cioè. Non sono sceglie. Solo volevo qualcosa di sceglie. Ehm. Ehm, aspetti a me di credere di questo? Astrid, comporti yourself, o io ti mando a Guttfish con il tuo paio. Che c'è? Qui siamo, Gabin away. Steen è morto. Ho bisogno di sceglie. In effetti avrei altro da fare. Vabbè. Ci hanno obbligati ad andare in una sauna. Stiamo qua, per carità. Sì. Sì, diciamo. Sì, diciamo. Ah, è vero. Onde è il tuo paio? Un paio? Ti ha fissato fuori dall'aerea. Abbiamo pensato che eravamo in un paio. Non proprio. Mmm, diciamo di sì. Sceglie. Sceglie. Beh, gentile no? Beh, sembra gentile. Sjall's certain to have readied the horses by now. But before you go, you ought to take a quick jump in the water. It'll do you good. Va bene, dai. Facciamoci sto tuffo. Allora... E tuffiamoci. Ecco. La calma prima della tempesta. Mmm... Non è un titolo di una missione molto, come dire, sicuro per il futuro, ecco. Vabbè, io mi sono... Direi che mi sono abbastanza bagnato. Forse devo togliermi l'asciugamano. Fatemi... Devo salire di qua, per forza, va bene. Saliamo, dunque. Qua... Oh, scusi. Cos'è che devo bere? Questo... Allora... 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 Uscita... No, di là. No... Devo andare... Ah, di qua. Ok. Direi di... Direi di... Ti vesti ed esci. Ok, ora sì che ragioniamo con la spada. Spacchiamo i culi. Appena arriva qualcuno... Di cattivo, eh. Allora... Allora... Stalla è qua. Oh, madonna. Devo dire la verità. No, dai, non siamo così rudi. Non, non, non... Non, ma che ci stavano che mi piaccia. Cosa? Ma che mi chiede... Ma che... Ma che ci stavano... D'acordini... Non è... Cosa... Ma che... Ma... Ma che... Voi dire, sei, 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 sei. Non è vero, e sarà velo. Non è vero, non è vero. Non è vero. Non è vero. Dai, devo fare l'insegnante Eh, direi Ah, mi sono arrivati, eh Beh, non stiamo lì impalati, su No, non c'è bisogno Penso io Allora Vabbè, adesso Vanno giù piuttosto bene Questo? Il primo che vedo Ah, no, no, aspetta C'era quell'altra missione con Kera L'hanno visti anche lì Un po' meno, però, forse Oh, c'ho, oh, c'ho Eh, sì, dai Sono piuttosto debolucci, signori Questa volta Battendo contro di lui Mi lasci stare Mi lasci stare Quanti sono? Aia Ma sì, non ci ricarichiamo la vita? Ah, forse siamo ancora debilitati Dove essere Ok, via la testa Eh, aspetta, aspetta No, via Opla Opla Ah, devo montare insieme un cavallo Lo metto adesso Allora andiamo Via, 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 via Ok Cosa? Cosa c'era? Il wild hunt Il ragno con il roc Il mondo è finito? No Non ancora Ma devo andare Sono qui per me Sì Andiamo con l'hanno Ti mostrerò la via Il ragno Non so come ti ringrazio Tu puoi ringrazio Mi ringrazio quando ci siamo sicuri È vero Questo lo chiedi dalla famiglia Ma vabbè È stata una scelta rapida Non ho avuto tempo di pensare molto Ma adesso direi di fuggire Ouch Uy Oh no, no, no Ok Madonna Mi son visto giù Ah, qua mi ha preso in pieno Qua la strada è stretta Maledizione No Uh Altri, altri Dove sono? No Uh, madonna Ma ci fanno fuori, eh Se ci prendono No Opla No, figlio è stanco Aspetta, aspetta Un attimo Ripausa Arrivo Eccomi Oh, ecco il nostro abico Ci ha fatto svenire con un mago Quindi Uh E per spadone Sì 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 Ma io quello l'ho già visto. Ma è che l'ho visto? Aspetta eh. Non mi ricordo. Ma è che l'ho viva. A chi? Non lo so. Begone. Dicci... 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 Non trattarlo così male, dai! Sta morendo l'albero? chissà non solo l'albero è fatto un bel danno e infatti avresti potuto mostrare un po' di compassione ma insomma eh davo in ordine con le domande scusa se non è stata la prima domanda ah scusi eh se ho un senso morale io era giorni eh allora ora questa Non lo so, Chaita Gamni. Abbiamo tutto il modo di essere fiori. Fiori! E tu, tu dovrai pagare per questo. Mi scusate. È tutto questo? Ti chiedi nulla cosa? Nessuno che potrebbe aiutare. Vi faccio sicuramente che tutti i Skellige siano lo che hai fatto qui. Guardate, io ho fatto questo. Io solo. Geralt ho cercato di evitare. Non ho scusato di ascoltare. Potrei aver saputo. Mi warnerano di te. Sorceri. Nessuno avverrà la porta a te. Nessuno avverrà la tua fagia. Nessuno avrà la tua fagia. Nessuno avrà la tua fagia. Praticamente... Come se l'avesse maledetta, in un certo senso. Beh, sì. L'ha portata via, effettivamente. Non ho scusato molto. Però... Però possiamo sicurare che Ciri non è ancora in Skellige. Non in Velen o Novograd, anche. L'ha scusata. L'ha scusata. Molto. Potremmo dovremmo rinforzare ciò che abbiamo scusato. Possiamo rinforzare una scuola che ci spaventurano. Ho sicuramente l'ho spero che sia il caso. Mi ha scusato di cosa ha fatto. Non mi ha pensato di capire. Non mi ha pensato di capire. Non mi ha pensato di capire. Ma che cosa è vero. Non mi ha pensato di capire. Questa è vero. È vero. Che sei... Ecco subito Cosa volevi chiedermi? You were gonna ask me something. What was it? Tell me... Do you think... Is there a chance... That thing might be Ciri? That... Well... She's been transformed by some curse? Don't even wanna think about it. Geralt... We must... Might be. From what I know she was looking to cure a powerful curse while in Novigrad. But I'll lose it if I try to deal with that possibility now. We have to do what we can. See what happens. Ciri's trail in Skellige. We followed it. Exhausted the possibilities. Might be time to go back to the continent. Before you do... There's one thing. It's important. What's that? Let's meet in Larvik. At the Warriors Hall. We'll speak there. Ok. No, no, ci vediamo. Fine. Larvik. See you there soon. Thank you. For that... And for your help in the garden. I've not managed that. It was nothing. Geralt. You know me. I'm rare to praise. But when I do, it is sincere. Ok. quindi conta Yennefer a Larvik e ci lasci qua così? scusi va vabbè andremo a piedi allora un passeggero misterioso che missione? altre missioni abbiamo sbloccato il brutto anatroccolo dopo l'ultimo desiderio che è quella di adesso ma l'ultimo desiderio prima che Geralt e Yennefer si separassero dopo l'avventura nel giardino di Freya la maga gli chiese di incontrarla a Larvik dice che si trattava di una faccenda personale ma non fornì altri dettagli ok allora adesso siccome bisogna tornare nel Velen per andare dal Sargente del Barone prendere A Uma si chiama? ah me lo ricordavo Uma quindi ha un nome quella cosa ok io farei farei lo so qualche missioncina vediamo vediamo intanto andiamo da Yennefer vediamo cosa ha da dirci grazie a